ehi ma che succede questo arancione? vedete un cappatino? ehi ma che cosa stai a prenderlo? ehi ma che cosa stai a prenderlo? saranno più a prenderlo? no no! per prenderlo non hai capito per prenderlo non hai capito ti puoi farlo ti puoi farlo poi resta l'amagata andiamo ancora Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. ... 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 si è un po' l'arvato in giusto via che il mingai aveva un po' la pennella Ammoni, no! E' un po' d'aricca Grazie a tutti 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 Grazie a tutti